Un libro pubblicato nel 1957 nel Regno Unito e oggi tradotto per la prima volta dagli studenti del liceo scientifico Aldo Moro di Rivarolo Canavese, ha permesso di ricostruire i drammatici eventi del 9 novembre 1944. Persero la vita nella traversata del Passo Galisia tra la Valle dell'Orco e la Val di Zer, 41 ex prigionieri inglesi e partigiani. Il volume Alpine Partisan è stato presentato a Palazzo Lascaris su iniziativa del Comitato Resistenza. Gli studenti hanno in qualche modo riportato in vita, togliendoli dalla neve, gli uomini che sono morti, militari inglesi e anche partigiani sul core della Galizia. L'importanza del lavoro sta soprattutto nel fatto che siano stati gli studenti a realizzare questo lavoro. Pensiamo sempre che i nostri giovani non siano interessati a quello che è successo quando loro non erano ancora nati, questi ragazzi di questo liceo dimostrano invece che le cose non stanno così e che c'è voglia di apprendere uno dei periodi più dolorosi nella storia del nostro Paese.